L'Aquila sportiva è in fermento, ma soprattutto in attesa, dopo le dichiarazioni del presidente dell'Aquila Calcio Corrado Chiodi e del suo vice Massimo Mancini, che hanno messo in luce le difficoltà economiche del club rosso-blu in vista dell'iscrizione al prossimo campionato entro fine giugno, la speranza dei tifosi è che tutto si sistemi. A me dispiacerebbe non vedere più l'Aquila Calcio nel panorama della Lega Pro, perché io sono appassionato, più che appassionato sono proprio un fedelissimo. Senza l'Aquila Calcio per me non ha senso la domenica e gli altri giorni, mi dispiacerebbe, però mi auguro che questi soldi vengano trovati e qualcuno li tira fuori. Penso che il presidente è un grande e il presidente risolverà tutti i problemi dell'Aquila Calcio. La stagione vorrebbe lei da tifoso, è stato scelto un nuovo tecnico, è stato scelto un nuovo direttore sportivo dopo le note vicende che col calcio c'entrano poco, lei cosa si augura? Mi auguro una stagione pulita per riportare comunque la gente allo stadio, per riportare un po' di entusiasmo, perché è quello che manca. Piacciano molto il tecnico nuovo Carlo Perrone e il DS Alessandro Battisti. Mi ricordo quando era direttore sportivo del Chiedi, ha sempre operato bene, mi auguro che faccia altrettanto all'Aquila. Sono fiducioso perché lo vedo veramente una persona corretta e sincera. Per i tifosi più storici però le ultime stagioni sono state di delusioni. Il problema dell'iscrizione, io non ho capito perché l'Aquila Calcio ogni anno arriva a dicembre prima, seconda in classifica e poi va tutto a scatafascio. Perché? C'è qualcosa che non va. Quest'anno l'alboramento non lo faccio, io l'ho fatto sempre per diversi anni. Se mi vado ad andare alla partita farò il biglietto qualche volta e ci andrò, se no chiuso. Io andavo allo stadio dal 49 fino al 2000 per l'Aquila Calcio e l'Aquila Rugby. Ma ogni anno è così, penso che sia una finta, poi gli ultimi soldi si trovano e si iscrive l'Aquila perché sarebbe una ringrazia, insomma, ulteriore. Dopo quello che è successo, insomma, parliamo aquilano. Grazie.